La transizione energetica creerà lavoro? Probabilmente come tutte le trasformazioni ne farà scomparire alcuni, ma probabilmente ne creerà altri. Ecco, parte da qui lo studio di una fondazione tedesca indipendente, la fondazione Bertelsmann, che ha provato a tracciare una mappa al 2050, quando, si spera, la trasformazione energetica sarà conclusa con un mondo dell'energia stravolto, ma con esso anche il mondo del lavoro. Ecco, quel che ne esce è un'Europa, se non sottosopra, molto diversa. Oggi, o per meglio dire, dalla rivoluzione industriale in poi, siamo abituati a disegnare un'Europa in cui a trainare sono le aree urbane industrializzate, quelle dei paesi che fanno da locomotiva, Germania in primis. Quando però saranno le fonti rinnovabili a fare da motore per un'Europa più sorretta dall'elettricità che dal gas o dalle fonti fossili, ad esempio le aree minerarie saranno meno importanti dal punto di vista energetico, delle grandi pianure, magari ventose, dove installare le pale eoliche, oppure delle aree del Mediterraneo da dove trarre l'energia solare. Certo, molto dipenderà poi dalle scelte che in concreto si faranno da qui al 2050, ma nella mappa che disegna la fondazione Bertelsmann, dove si sposta la produzione di energia, là si sposta il lavoro e quindi a colorarsi sono le regioni del sud, le aree rurali della Francia centrale, le periferie dell'Europa orientale e le aree lungo il mare del nord e la costa baltica a fare da motore. Il motivo dove si produce energia si crea lavoro. Il passaggio alle energie rinnovabili per le regioni rurali potrebbe trasformarsi così in un aumento fino al 4,9% dell'occupazione e della ricchezza di chi ci vive, fino a 1.570 euro pro capite entro il 2050. Al contrario, nelle aree che vedranno l'eliminazione della produzione di energia fossile e nelle aree urbane, oggi più ricche, potremmo avere fino a 2.500 euro in meno di valore aggiunto pro capite e fino al 2% in meno di posti di lavoro nel 2050. Posti di lavoro che non scompariranno, ma si sposteranno. Allora, chi ci guadagna di più? Polonia, Slovenia, Italia del sud, tra le regioni che più beneficeranno in termini di pil pro capite, spuntano però Molise, Calabria e Basilicata, ma impareremo a conoscere regioni semisconosciute della geografia economica europea, come le aree nord-orientali della Polonia, dove si stima un aumento dei posti di lavoro oltre il 4,5% e un aumento del pil pro capite che si aggira attorno al 6%. Questo non significa che non ci saranno regioni europee più ricche e altre meno, ma se per le zone oggi ad alta industrializzazione si tratta di affrontare una sfida, per quelle meno ricche, ma con più risorse naturali per produrre energia, un'occasione per agganciare la locomotiva della crescita. Una rivoluzione non diversa, secondo la fondazione Bertelsmann, di quella che fu la rivoluzione industriale. Insomma, l'energia sposta l'occupazione, redistribuisce la ricchezza e cambia la mappa di un continente. Certo, ammesso che le scelte vadano davvero in questa direzione.